Erano scappati senza prestare soccorso dopo aver travolto una 63enne provocando le serie fratture. Ad un mese esatto i carabinieri di San Martino di Venezia hanno individuato e denunciato per lesioni stradali, gravi, fuga e omissioni di soccorso due responsabili. Sono un 73enne e un 47enne residenti entrambi a Padova. L'incidente era avvenuto lo scorso 17 marzo a Portoviro nel centro di Polesella, in provincia di Rovigo, durante il tradizionale mercato dell'antiquariato. I due padovani stavano spostando il loro furgone in retromarcia quando hanno investito l'anziana signora, poi si sono allontanati senza prestarle soccorso. La donna è stata portata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Rovigo. I medici le hanno riscontrato contusioni al torace, numerose fratture su tutto il corpo e una contusione facciale. I carabinieri hanno subito avviato l'indagine per individuare i colpevoli attraverso i racconti di alcuni testimoni oculari e i filmati delle telecamere del circuito di videosorveglianza cittadino sono risaliti ai due responsabili che sono stati denunciati.